ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube perdonatemi l'assenza ma tra carenza di contenuti su fifa e il comicon di napoli che mi ha praticamente risucchiato con mille impegni non sono riuscito a portarvi nulla di interessante anche perché di interessante c'era ben poco oggi però torniamo con un video molto importante perché infatti sono state aggiunte significative novità ai premi della weekend league che riguarderà tutto il periodo tots e in più ci tenevo anche a darvi qualche consiglio su come gestire al meglio gli swap usciti in settimana inoltre volevo dirvi che in questi giorni sto giocando tanto ai football poi ne parleremo forse approfonditamente in un video su cosa penso di quel gioco ma ci tenevo a sapere se a qualcuno di voi potrebbe anche interessare una sorta di guida per iniziare al meglio su questo titolo in compagnia di qualche pro di pes che ci dà una mano quindi mi raccomando commentate detto questo andiamo subito a vedere di che cosa volevo parlarvi come detto in apertura appunto sono stati modificati i premi della weekend league come sapete durante il periodo in cui ieri lascia i tots questi subiscono dei bei cambiamenti ed è quello che è successo anche quest'anno anche se non tutti forse saranno contenti di come li hanno gestiti perché andiamo a vedere immediatamente nel dettaglio e facciamo una distinzione tra quelli che sono i pick e i pack perché sappiamo bene che quando andiamo ad ottenere determinati risultati anche negli altri fifa andavamo ad ottenere pick contenenti tots ma soprattutto pacchetti non più if ma contenenti tots a tal proposito parto subito col dirvi che i pacchetti if che avete conservato non si trasmuteranno in pacchetti tots gli unici pacchetti che vi daranno tots garantiti sono quelli che guadagnerete a partire da questa weekend league che inoltre inizierà non domani mattina quindi venerdì al solito orario ma alle 21 ora italiana in maniera tale da evitare che qualcuno la potesse finire prima che ci siano i tots e ritrovarsi con i pick cannati e finirà invece martedì mattina quindi si recupererà quel giorno lì bene detto ciò allora partiamo dal dai pacchetti perché i pacchetti che garantiscono il tots al suo interno sono pacchetti che noi possiamo ad andare ad ottenere dal livello 4 in poi e in particolar modo andando appunto a schiacciare qui sul livello 4 il pacchetto che ci darà questo livello contiene tre giocatori tots che possono essere sia community che le divise quindi contenenti sia il campionato principale che il campionato secondario perché come sapete ogni settimana esce sia il campionato principale che quello secondario mentre se noi andiamo dal livello 3 in su fino al livello 1 sarà possibile ottenere sempre un soltanto pacchetto tre giocatori tots ma questa volta del campionato principale quindi come vedete qui della community e onestamente è un qualcosa che mi fa storcere molto il naso perché nei fifa passati se facevi top 100 ti prendevi un pacchetto con 11 tots se facevi elite 1 ti prendevi due pacchetti da tre tots sono andati un pochino a risparmio qui gli amici di ei ecco questo football che tanto male non è un po di novità la portata occhio mi verrebbe da dire per quanto riguarda i picchi invece discorso più o meno analogo perché allora i tots del campionato principale sono garantiti nei pic a partire dal livello 6 mentre dalle rivals riceveremo ancora il il pick del team of the week non si sa per quale motivo ma hanno deciso così in particolare per quanto riguarda il livello 10 e il livello 9 avremo la scelta di un giocatore tots overall massimo 90 tra quello community e tra quello redivise quindi tra il principale e il secondario per quanto riguarda il livello 8 avremo la scelta di un pick tra i tots del campionato principale di quello secondario massimo 90 ma tra quattro stessa cosa che accade per il livello 7 ma in questo caso i pick non è più uno ma sono due dal livello 6 invece appunto andremo ad ottenere quello che è il pick del campionato principale quindi in questo caso andiamo ad avere una scelta tra tre tots del community dal livello 5 invece avremo sempre una scelta tra tre tots del campionato principale ma in questo caso i pick saranno due per il livello 4 ed il livello 3 invece i pick saranno sempre due ma la scelta sarà tra quattro giocatori e infine per il livello 2 il livello 1 avremo sempre una scelta tra due pick ma in questo caso i giocatori che appariranno saranno 5 e sempre tutti quanti del campionato principale quindi questo per quanto riguarda le modifiche alla weekend league e al premio anche delle rivals al momento fatemi sapere voi che ne pensate ma per me è stato fatto un bel passo indietro di solito questo era il periodo in cui praticamente ti tiravano appresso pacchetti possibili immaginabili del potenziale squadre provare anche altro mi sembra che quest'anno abbiano voluto un attimino tirare il freno a mano e non è un bene a mio avviso per quanto riguarda invece gli swap che sono usciti in settimana secondo me abbiamo visto praticamente il miglior pacchetto è il miglior comparto di swap mai rilasciato fino ad oggi perché abbiamo tutta questa serie di pacchetti il 25 82 più l'83 più l'84 più che fa il suo debutto abbiamo anche l'85 più per 20 giocatori quindi tutta una serie di pacchetti che per me sono molto utili in ottica di andare magari a ricaricare i club poter trovare tots poterli spacchettare poter fare dei fodder per fare sfide icon che si presuppone di questo periodo rilasceranno anche i giocatori abbastanza cagliardi a 5 token abbiamo anche van der star moments che è un portiere della madonna anche se io ho preferito il mid non mi chiedete perché ma mi sembrava rendere meglio mentre pacchetto attaccante centrocampista moment icona 91 più con sei token non mi dice niente di che perché ci sono tante buste che possono uscire mio figlio dal glish a 7 giocatore che sapete io amo una specie di bayheader agilissimo 5 di pede debole che però quest'anno non è propriamente in meta perché sapete bene quanto sono importanti le 5 skill che ho fatto venire praticamente ormai la nausea con con questo argomento roberto carlos a 8 token terzino forte ma ce ne sono veramente tanti a 8 token invece abbiamo l'interessante pacchetto moment icona 93 più che per me può avere senso best con 9 token per carità parliamo di un giocatore molto molto forte ma che per quando sarà riscattabile saranno usciti già tanti tozze quindi carte che magari abbiamo trovato non scambiabili dalla vl oppure abbiamo preso a poco prezzo che sono dei suoi competitors assoluti assolutamente validi pick in questo caso invece moment icona 91 più che richiede tanti token ma in sé contiene anche una marea di rischi quindi non ci andrei a fare questo investimento e to un attaccante 44 per quanto moment sappiamo che gli attaccanti 44 non è che facciano questa gran differenza pacchetto icona moments 94 più anche questo molto interessante a 13 token così come a 14 token c'è anche mataus che è veramente fortissimo ma non è quel game changer che piazzate all'interno della squadra e vi e vi ha cambiato la vita a questo punto del gioco abbiamo poi il pick moment icona 93 più e il pick moment icona a 16 e 15 token che pochi non sono quindi state attenti 17 token per l'attaccante centrocampista 93 più che anche qua rischia di contenere tante insidie e quindi non è proprio il top e alla fine di tutto abbiamo gullit a 17 token che per carità di dio carta goat devastante che vi portate fino all'anno prossimo ma stesso discorso di altri magari saranno usciti tots come anche gravenberg che avete preso a molto meno non ci avete speso tre mesi per farmarlo perché ve lo portate a casa praticamente a giugno e quindi vi ha bloccato gli swap senza che avete potuto potuto fare altro quindi dopo questo grosso preambolo io che cosa vi consiglio di fare allora la mia scelta preferita è quella di andare a prendere con 5 token bandersar dopo affiancare a bandersar tutta questa serie di pacchetti ovvero l'82 più l'83 più l'84 più e anche l'85 più però ho individuato anche due combo che possono essere altrettanto valide e queste riguardano la presa del pacchetto 83 del pacchetto 84 del pacchetto 85 per caricare tozze fodder che per me non lascerei sfuggire come possibilità e poi a questi ci andiamo ad affiancare quello che è il pacchetto icona moments 93 più ultima scelta invece che pure può essere molto valida e che taglia ulteriormente una serie di buste dal pacchetto 93 più è quella di fare il pacchetto 20 giocatori 85 più a 5 token e andare a chiudere con il pacchetto momenti icona 94 più quindi con 18 token perché come sapete nei negli swap la ricompensa massima è di 17 ma i pick totali che escono sono sempre 18 quindi queste sono le mie tre scelte consigliate dagli swap fatemi sapere nei commenti voi chi avete puntato cosa volete prendere e se vi trovate d'accordo bene o male con con le mie idee mi raccomando fatemi sapere anche per quanto riguarda e football e per quanto riguarda i premi della weekend league che a me hanno fatto storcere parecchio il becco in descrizione trovate tutti i link di riferimento la piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che augurarvi una buona serata ci vediamo presto un saluto a riberoschi ciao 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 Grazie a tutti.